Allora, io arrivo per ultimo sul discorso, sarò indifferita quindi per gli ascoltatori del salotto, non avrò modo di interagire né con Marco né con Matteo, e su questo ci godo, quindi pura libertà anarchia al centro del salotto, in realtà no perché sono nelle mani di uno dei due montatori sperando non mi tagliano questa scena, quindi immaginate questo intervento come se rispondessi da una trincea nascosta dalle grinfie del salotto, però scherzi a parte in realtà ho poco da aggiungere perché i discorsi che facevano sia Marco sia Matteo sono molto centrali sul film, e molto 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 allineati con quello che penso. Io vorrei giusto aggiungere una cosa che secondo me è una riflessione che va oltre la trilogia, è che gran parte, allora gran parte degli horror a cui chiaramente aspira Thai West, cioè gli horror degli anni 70, l'horror huperiano come diceva Marco, avevano come sottofondo questa sorta di America puritana eccetera eccetera, cioè si ambientava in quegli anni lì dove c'era un certo tipo di puritanesimo, sia diciamo nella vita vera che nella vita di finzione dei film, e non aprite quella porta è un chiaro esempio, cito giusto una parte di Sin Reaction che è un documentario incredibile di Philippe, Leone d'Oro a Venezia, dove dice che Non aprite quella porta è un film in cui questa famiglia di pazzi si vede invasa, tanto è vero che a un certo punto si è The Leatherface con le mani al volto perché non sa che fare, e Maxine, Pearl, sono personaggi che chiaramente non hanno nulla a che vedere con Leatherface, cioè loro non sono persone invase da un'altra realtà, loro sono persone che invadono un'altra realtà, cioè loro non sono assaliti da nulla, e Maxine secondo me così come tanti folli del cinema contemporaneo, proiettano la loro follia nella fama come diceva Marco, l'altro caso forse ancora più emblematico di Maxine è Joker, cioè Joker soprattutto nel primo, ma poi vedrete anche nel secondo, anche se quel discorso lì si sgonfia un attimo, è un personaggio che ha la continua ricerca della fama e dell'affermazione televisiva a tutti i costi, e fa di tutto per far di tutto fino ad ammazzare Robert De Niro, il conduttore, il comico, nel primo film. Quindi c'è questa componente di violento tentativo di scalata sociale, che è un po' questo minimo comune denominatore tra questi due film, e credo sarà il minimo comune denominatore di tanti film horror, thriller, o chi ne ha più ne metta, diciamo dagli anni venti del 2000 a salire. Credo sia un po' questo il trend, e credo che Tai West l'abbia intercettato molto bene. Poi, chiaramente, dal punto di vista del discorso filmico, sono assolutamente d'accordo con voi, continuo a credere che il primo X sia un film molto più forte, per esempio, di Pearl o quant'altro. E per esempio, in questo tipo di follia qui, si può intercettare, secondo me, un'altra moda del cinema contemporaneo, l'abbiamo visto anche a Venezia, con il Joker, ma poi avrete modo di rivederlo con lo splendido film di Almodovar, c'è anche questa componente della reincarnazione, cioè questa mia gotta che in ogni film cambia pelle sempre diversa, addirittura nei primi due interpreta due personaggi che sono letteralmente l'uno la reincarnazione dell'altro. E quindi c'è, secondo me, tutto o quasi tutto quello che ha da dire il cinema contemporaneo sulla società attualmente. Da quel punto di vista è un'operazione molto intelligente, che secondo me è sì intrigante letto all'esterno della trilogia, però se è letto all'esterno della trilogia, come diceva, non ricordo se è Marco o Matteo, perdono un po' di forza, però questi spunti qui ci sono, c'è stata questa volontà di intercettare queste tendenze qui. D'altra parte, secondo me è una trilogia che funziona abbastanza e, giusto per chiudere, quantomeno non sono dei film brutti, ecco. E questa qui non è assolutamente cosa da poco. Grazie.